C'è stato un ampio dibattito molto attento, in alcuni tratti anche aspro, però è chiaro che il Consiglio Comunale vuole dare la sua linea di indirizzo rispetto a questa questione. Non è più possibile andare avanti con queste condizioni, diciamo basta alle polemiche che non hanno fatto bene sicuramente alla città, non hanno fatto bene alla squadra di calcio né tantomeno all'amministrazione. L'amministrazione fa il suo lavoro, il Consiglio Comunale darà il suo contributo e la società sportiva farà il suo lavoro. Insieme potremmo costruire sicuramente qualche cosa di positivo e sarà un nuovo rapporto di rinnovata fiducia. Grazie.